Lago Rano di Segesta .. .. .. .. .. .. .. .. .. Qua c'è un cosco, questa è la cos'era. Vule Euterio, l'automunico del Consiglio C, o Vule, costruito verso la fine del mondo di Sveto, l'acquisto, la carneta, il centro mondo, il montale, la testa, con delle donne di tentativi, il posto al mondo, perciò. E' un teatro coperto, ce l'avano pure specchiato, con il tuo fritto qua sopra, i greci, giustamente, l'avremmo mettato all'aperto, e l'avremmo mettato all'aperto, e l'avremmo mettato all'aperto. E dove era l'alcalinare? L'acquisto, vedi? E a tutto, non ci possiamo andare. L'acqua è chiusa il percorso, lascia, qui c'è la piantina. L'acqua è chiusa il percorso, lascia, qui c'è la piantina. Altre che teatro, l'antiello, 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 l'ultimo, 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 l'ultimo. Certo. Un'altra, come questa, vengo, pioggia. Non c'è nessun cavo di solito, non c'è nessun cavo di solito, non c'è nessun cavo di solito. Non c'è nessun cavo di solito, non c'è nessun cavo di solito. Non c'è nessun cavo di solito.